liberamente il podcast di psicologia con storie idee consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più a cura di Matteo Neroni un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast liberamente il podcast che non in settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale oggi ragazzi partiamo da un proverbio diciamo di fama mondiale si potrebbe dire prima te lo voglio recitare in latino vediamo se lo conosci gutta cavat lapidem non so se sei riuscito a tradurlo io preso così dal latino non sapevo di veramente di che stavo parlando ma ho scoperto essere il proverbio più famoso al mondo e cioè la goccia scava la roccia immagino che così tu lo abbia già sentito e questa metafora sarà la pietra diciamo sulla quale fonderemo la puntata di oggi infatti la goccia scava la roccia ha un significato estremamente profondo e parla di come l'acqua come elemento naturale non possa di per sé da sola intaccare scavare la roccia le pietre perché in natura la pietra è un elemento estremamente duro e resistente ma l'acqua cadendo goccia dopo goccia riesce addirittura a scavare delle fosse delle buche molto profonde nella roccia con il passare del tempo quindi il senso della frase di questa frase di questa metafora è che la costanza e la perseveranza sono gli elementi indispensabili che ci permettono di ottenere risultati che all'inizio sembrerebbero per noi impensabili quindi nella puntata di oggi parleremo di come azioni banali anche che ci sembrano appunto ordinarie di ordinaria amministrazione di tutti i giorni ci permettano di raggiungere obiettivi e traguardi straordinari traguardi che ad oggi ci sembrerebbero per noi irraggiungibili allora non perdiamo altro tempo entriamo nel cuore di questa puntata e cerchiamo di capire il significato di questa parola ordinario e straordinario e vedere se effettivamente il concetto di ordinario è così antagonista del concetto di straordinario allora buon ascolto e ci risentiamo al termine di questa puntata eccoci qua allora cominciamo subito dall'analisi di queste due parole ordinario e straordinario partirei dallo straordinario che è quello che spesso e volentieri ci attira molto di più allora iniziamo col dire che lo straordinario ha un significato estremamente accattivante perché straordinario vuol dire qualcosa che supera la nostra percezione del normale straordinario è qualcosa che va oltre il solito oltre al comune ha a che fare con la grandiosità con l'unicità con la singolarità è qualcosa di eccezionale sostanzialmente lo straordinario è qualcosa che va oltre a ciò che è ordinario e consueto quando vediamo ad esempio una persona fare qualcosa che va oltre l'ordinario questa persona diventa ai nostri occhi straordinaria straordinario quindi richiama il concetto ad esempio di talento e il talento ci è stato insegnato che ne abbiamo a misura diversa ognuno di noi quindi sembra che ognuno di noi abbia accesso a una certa misura di straordinario nella propria vita ma andiamo con ordine perché non voglio spoilerarti nulla ci arriviamo a gradi a quello che voglio dirti con questa puntata di oggi ad esempio per esempio un disabile che vince le olimpiadi è qualcosa che per noi risulta straordinario una persona che nasce magari in una famiglia povera e poi diventa ricca grazie alle sue capacità è qualcosa di straordinario noi umani amiamo lo straordinario siamo tremendamente affascinati dallo straordinario per questo fin dall'antichità inventiamo storie di miti e di eroi di personaggi che sono in grado di superare magari le difficoltà i limiti della propria natura grazie al loro sforzo al loro impegno al loro ingegno riescono a raggiungere obiettivi e risultati straordinari amiamo le storie di gesta straordinarie mentre invece odiamo mi verrebbe quasi da dire ciò che è ordinario essere ordinari è qualcosa di meno popolare non ci piace essere considerati persone ordinarie perché il concetto di ordinario invece lo vedremo meglio più avanti richiama il concetto di uguale di essere uguale agli altri di ripetitivo è qualcosa di poco speciale e a noi non ci piace essere considerati poco speciali amiamo invece l'essere considerati speciali in qualche modo in qualche misura e questo si trasforma tante volte in una sorta di condanna perché dobbiamo continuamente mantenere questa soglia alta di straordinarietà cioè le persone devono capire che siamo speciali ecco non possono considerarci ordinari, banali, semplici o uguali agli altri non basta tante volte aver fatto una singola cosa straordinaria per essere considerati persone speciali ma bisogna continuamente fare qualcosa qualcosa che vada oltre le righe oltre l'ordinario è per questo che parlo in un certo modo di condanna questo bisogno di straordinarietà di essere considerati speciali può avere anche una lettura può essere una chiave di lettura delle condotte antisociali che tante persone mettono in campo pensare per esempio a un bambino che magari in classe non riesce a essere considerato speciale per i suoi risultati accademici e allora comincia a mettere in atto tutta una serie di comportamenti di condotte antisociali per ricevere attenzione per essere considerato speciale rispetto agli altri quindi il concetto di specialità di straordinarietà tante volte ha anche una valenza negativa una lettura negativa e perché ancora questo concetto della straordinarietà tante volte ci si ritorge contro perché purtroppo tutte le cose che inizialmente erano considerate straordinarie poi diventano nel passare del tempo di ordinaria amministrazione pensate per esempio all'uomo che arriva sulla luna per la prima volta è un risultato eccezionale è un risultato straordinario qualcosa di impensabile fino a pochi decenni fa l'uomo che impara a volare per la prima volta anche questo è straordinario o l'uomo che inventa la lampadina l'uomo che porta l'elettricità nella casa di tutte le persone del mondo ecco tutte queste azioni straordinarie però purtroppo dopo un po' di tempo cadono nella sfera dell'ordinario cioè ci abituiamo anche se ci permettono di fare cose che pochi anni prima erano considerate totalmente impossibili col passare del tempo lo straordinario perde di fascino nel senso quell'azione perde la propria straordinarietà e si comincia a considerarla un qualcosa di ordinario e quindi si dà per scontato pensiamo ad esempio all'effetto Amazon oggi c'è Amazon con il quale l'essere umano ha finalmente materializzato il proprio sogno di avere il genio della lampada ai nostri ordini tu ordini qualcosa fai una lista dei tuoi desideri e Amazon ti esaudisce subito te le fa trovare con un bel pacchetto sorridente è proprio sotto casa tua il giorno dopo per alcuni prodotti addirittura dopo poche ore dall'acquisto ecco questo è straordinario per noi ma piano piano stiamo anche per il fenomeno Amazon lo stiamo trasferendo sempre di più nel versante dell'ordinarietà no? sembra ormai normale ordinare faccio con un click e mi arriva che ne so i pannolini di mia figlia mi arrivano sotto casa dopo un paio di giorni insomma è qualcosa che piano piano sta perdendo il suo fascino quindi qual è la condanna che ha Amazon da questo punto di vista? quello di dover sempre trovare nuovi espedienti studiare nuove strategie nuove tecnologie per in qualche modo tenere viva in quel senso quella percezione di specialità di straordinarietà proprio sul suo marchio chi vive male quindi l'essere straordinario è perché l'essere speciali serve per avere l'attenzione degli altri su di sé vive la condanna di poter essere visto dagli altri solo nel momento in cui supera le righe supera le aspettative fa qualcosa di straordinario ecco quindi se da una parte la necessità il bisogno di essere considerati straordinari stimola l'innovazione stimola il cambiamento dall'altra parte ci rende sempre più bisognosi di fare e di essere qualcosa di nuovo ci può rendere schiavi di questo sentirci e di essere sopra le righe tanti di noi sviluppano una vera e propria ansia da questo punto di vista ma ne parleremo dopo il concetto di straordinario ci rende quindi miopi ti rende miope ti porta a vedere solo il risultato finale senza più guardare al processo per cui l'uomo è andato sulla luna ma per il resto non te ne frega niente è andato sulla luna ma non ti colpisce più così tanto hai bisogno di sentire altra adrenalina in corpo hai bisogno di sapere che l'uomo è arrivato addirittura su Marte ecco c'è bisogno sempre di qualcosa di speciale il problema è che quando questo meccanismo lo replichiamo anche nella nostra vita di tutti i giorni e quando non succede qualcosa di straordinario nelle nostre giornate o non siamo abbastanza straordinari speciali agli occhi degli altri ecco smettiamo di riconoscere la specialità nella nostra vita smettiamo di vedere guardare la nostra vita come qualcosa di straordinario ma di ordinario ci cominciamo a fare delle domande sul senso che ha la nostra vita cominciamo a sentirci dei falliti che le cose che facciamo tutto sommato non hanno un senso ecco si capisce comincia a capire quanto può essere pervertito questo processo dello straordinario quando ci disinteressiamo del processo e guardiamo solo i risultati straordinari ecco perdiamo inevitabilmente contatto con lo straordinario che c'è in noi che c'è nelle cose che ci circondano e diventiamo sempre di più intolleranti all'ordinario facciamo un esempio quando un bambino magari piccolino inizia a muovere i primi passi sono tutti elettrizzati intorno a lui siamo lì pronti a tessere le sue lodi a fargli applausi a farlo sentire appunto straordinario speciale neanche fosse che ne so il re di Francia e lui è contento lui è stasiato nel sentirsi così apprezzato nel vedersi acclamato ma poi vogliamo di più da lui il semplice camminare non ci basta più vogliamo che inizi a correre vogliamo che inizi a saltare poi a ballare poi a vincere medaglie a vincere la coppa del torneo di calcetto di scuola oppure cominciamo a aspettarci da lui che scelga l'università più prestigiosa a ottenere un lavoro bello importante tutte cose buone ma crescono le nostre aspettative su di lui e allora l'eredità dello straordinario comincia a schiacciarlo lo straordinario ci porta ad alzare sempre l'asticella delle aspettative su noi stessi e sugli altri ed è per questo importante comprenderlo meglio perché se da una parte questo concetto dello straordinario è necessario per la nostra crescita è un pungolo è un qualcosa che ci spinge a crescere può trasformarsi in un vero e proprio boomerang che senza che ce ne rendiamo conto ci ritorna dietro alle spalle ci colpisce in testa quindi in termini di autostima ci rende dipendenti dal giudizio degli altri si capisce questo che il senso di ineguatezza comincia a crescere ci sentiamo non abbastanza non abbastanza speciali ciò che viene considerato straordinario che prima magari facevamo di colpo diventa ordinario e non basta più anche a noi magari nella nostra relazione quello che pensavamo essere speciali nella persona che abbiamo amato fino al giorno prima a un certo punto smette di esserci di essere importante quindi questo processo se vissuto male attiva questo vortice vizioso interiore che è potenzialmente deleterio in maniera infinita ecco io invece questo podcast voglio portare avanti un altro un altro punto di vista voglio ragionare insieme con te sulla bellezza dell'ordinario della sua infinita importanza e soprattutto di quanto ragionare su azioni ordinarie sia fondamentale fondamentale per il nostro cambiamento perché tante volte non riusciamo più a cambiare pensiamo che certi risultati siano irraggiulgibili nella nostra vita perché non siamo disposti a vivere l'ordinario di quel risultato ma veniamo a noi allora parliamo del del concetto di ordinario il significato di questa parola ha a che fare con qualcosa che è qualitativamente o quantitativamente contenuto nei limiti della norma della regolarità e quindi richiama il concetto comune di consueto ma se andiamo a vedere l'etimologia no l'origine della parola ordinario questa proviene dal latino ordinarius che significa ordine ed è qui il segreto dell'ordinario secondo me fare cose piccole tutti i giorni in maniera ordinaria e precisa che vada nella direzione di ciò che vuoi veramente di ciò che è veramente buono per te è questo processo che ti porta al raggiungimento di un obiettivo straordinario pensa a qualcosa che ad oggi vorresti ma ti sembra per te irraggiungibile ecco questo pensiero di irraggiungibilità è frutto di un ragionamento scorretto che fai della parola straordinario ecco è questo ciò che rende una persona comune una persona straordinaria saper stare nella propria ordinarietà no è la capacità di fare tutti i giorni in una cosa che sembra banale e scontata ma se fatta tutti i giorni come dicevamo nel proverbio dell'inizio puntata scava la roccia ed è qui che si fermano tutti ed è questa capacità è questa la capacità che dobbiamo sviluppare nella nostra vita la costanza la costanza ragazzi è la madre di tutte le mete straordinarie vuoi raggiungere un obiettivo importante nella tua vita senza costanza non vai da nessuna parte ci hai pensato a questo no perché tutti siamo attirati dal fascino dello straordinario dal mito dall'eroe ma poi riesci a compiere tutte le piccole sfide eroiche che la tua vita ti mette davanti ogni giorno oppure hai un progetto magari lavorativo importante ma hai la forza e la costanza di metterti lì ogni giorno a fare un piccolo passo che ti avvicina a quella meta no perché io non so te ma vedo sempre più spesso persone che hanno grandi sogni grandi mete grandi traguardi che vogliono raggiungere ma poi non sono mai disposti a confrontarsi con la costanza con la costanza che serve per raggiungere quel risultato cioè ma mi vuoi trovare una persona una me ne basta una una persona che ha raggiunto grandi risultati nella sua vita senza doversi mai confrontare ogni giorno con un'azione specifica con un allenamento insomma con una roba ordinaria da dover fare tutti i giorni pensiamo anche ai grandi miti della nostra società di oggi penso per esempio che ne so al panorama atletico che ne so come Cristiano Ronaldo oppure come Bebevio ma potremmo anche andare a parlare di tutti i grandi cervelli della storia dell'umanità cioè le grandi invenzioni di cui oggi tutti quanti noi godiamo che tante volte diamo assolutamente per scontato come l'invenzione della lampadina o dell'automobile appunto tutta roba che pensiamo faccia parte della banale ordinarietà di tutti i giorni ma secondo te è stato frutto di un singolo atto straordinario cioè Cristiano Ronaldo è il giocatore più forte del mondo perché secondo te ha solo talento beh se pensi questo sei uno sciocco perché in realtà non è così se vai a vederti la storia di qualsiasi personaggio della storia dell'umanità che ha ottenuto dei risultati che consideri straordinari documentati documentati leggi delle biografie scoprirai che sono passati per tanti piccoli fallimenti per tanti piccole azioni banali ripetute giorno dopo giorno e raffinate giorno dopo giorno e fallimento dopo fallimento morti dopo morti e sì perché questo con il concetto di ordinarietà ci richiama il concetto di morte di qualcosa di ripetitivo di qualcosa che ci toglie anziché ci aggiunge e sì perché a volte arrivare a un risultato straordinario c'è bisogno di morire un pochino un pochino ogni giorno facendo quell'atto ripetitivo che ti sembra totalmente inutile ordinario appunto ma tu non vuoi morire ma tu non vuoi morire vuoi essere vuoi entrare nell'olimpo delle persone straordinarie senza mai morire un pochino senza mai sforzarti vuoi lo straordinario senza fare nulla nel tuo ordinario senza cambiare nulla del tuo ordinario allora cosa vuoi perché se è questo quello che hai in testa non ci hai capito niente non hai capito niente è l'azione ordinaria ragazzi è l'azione ordinaria nella sua banalità che ripetuta nel tempo con costanza ci permette di accedere al mondo dello straordinario penso per esempio nel mio piccolo veramente nel mio piccolissimo a questo podcast per me questo podcast ragazzi è qualcosa di straordinario è qualcosa che fino a un anno fa pensavo che non avrei mai potuto raggiungere i risultati che ha raggiunto ad oggi con più di 120 mi sembra più o meno puntate all'attivo o con un canale telegram con quasi con più di 450 persone ormai o che mi potesse generare anche un certo tipo di lavoro in più perché per molti di voi hanno scelto di iniziare un percorso proprio con me anche a distanza attraverso Skype attraverso l'ascolto di questo podcast risultati che fino ad un anno fa mi sembravano straordinari cioè qualcosa che andasse fuori da mia portata ecco invece cosa mi ha permesso di raggiungere questi risultati straordinari ragazzi me l'ha permesso il pubblicare il podcast in maniera costante me l'ha permesso pubblicare una condividere con voi menti libere iscritte al canale telegram un messaggio ogni giorno piccole azioni che sembrano banali ma che messe in fila goccia dopo goccia hanno scavato una roccia hanno scavato un buco nella roccia cioè tradotto hanno portato a dei risultati che per me sono straordinari cioè che all'inizio mi sembravano totalmente irraggiungibili ecco tutti no approcciamo ecco io un pochino mi ci riscaldo su questi su questi temi ma non voglio attaccarti perché tutti approcciamo al concetto di straordinario nello stesso modo perché tutti subiamo l'influenza di questo mondo cioè pensiamo che esista a un certo punto un colpo di genio o un momento in cui tu pensi in cui i tuoi desideri si avverano in maniera magica no e che a un certo punto la relazione con tuo padre o con tua madre cambi da un momento all'altro o che magari la relazione con tuo marito cambi no che inizierà ad amarti di più nel modo in cui vuoi tu così semplicemente perché trascorre il tempo perché hai pazienza eh ma non è così oppure che i tuoi figli ti cominciano a portare rispetto senza che tu fai nulla ma solo per il tempo che lasci trascorrere non è così no che magari trovi il lavoro dei tuoi sogni come se piovesse dal cielo ma non è così ragazzi ci dimentichiamo che se vogliamo qualcosa dobbiamo iniziare a costruircelo un millimetro alla volta e qual è questo millimetro? è un'azione ordinaria quindi lo straordinario è accessibile solo tramite l'ordinario facendo azioni e gesti quotidiani e questo a volte significa un pochino morire alla banalità del gesto che dobbiamo compiere no? per risorgere nello straordinario penso per esempio a me no? la banalità di mandare magari un messaggio una nota audio in più all'interno del canale telegram riservato solo agli iscritti ecco questo a me richiede del tempo richiede delle energie perché non voglio dire delle cretinate non voglio scrivere delle cretinate e quindi mi richiede un minimo del tempo cioè di far morire un pochino del mio tempo in virtù di qualcosa di superiore e solo dopo aver eseguito no? ogni giorno quella cosa che iniziamo a diventare bravi in quella cosa ecco un altro un altro mito che dovremmo sfatare no? che si nasce persone talentuose e quindi straordinarie e invece c'è chi nasce ordinario e incapace non è così una cosa che all'inizio ti mette in difficoltà è normalissimo perché non sei abituato a farlo ma il tuo livello di abilità aumenta in proporzione al farlo quotidiano no? e ci porta dei risultati sempre più vicini allo straordinario cioè al concetto che abbiamo noi di irraggiungibile quindi inizia ad abbandonare la concezione dello straordinario che ti sei formato in questi anni di vita ecco se vuoi un consiglio pratico cominci a metterlo in discussione no? che a un certo punto la tua vita cambierà perché avrai una botta di genio o una botta di culo che ti cambierà totalmente la direzione della vita e inizia ad abbracciare la verità la verità è che ogni piccola azione ordinaria ha evocare lo straordinario nella tua vita e lo straordinario che c'è in te allora vedi come anche comincerai a vedere le cose che ti circondano come qualcosa di straordinario perché non sarai più orientato al risultato e basta ma comincerai a vedere lo straordinario come il frutto di un processo e quindi anche vedere i piccoli passi che gli altri intorno a te fanno come qualcosa di straordinario ma questa roba no? che può sembrare una grande logubrazione mentale devi tradurla in fatti no? devi iniziare a ragionare in una logica di ordinarietà e questo significa preparare la strada al risultato straordinario nella tua vita cioè vuoi l'Everest? bene bene ottimo ottimo che vuoi puntare all'Everest anche nella scrittura c'è scritto duch in alto puntiamo in alto siamo esseri umani siamo nati per puntare in alto cioè l'Everest è già tuo a patto che inizi a fare gesti azioni nella direzione dell'Everest l'Everest declinalo quello che hai nella tua vita che vorresti che cambiasse che vorresti che migliorare di te o delle tue relazioni no? diventane consapevole qual è il tuo Everest e poi comincia a fare piccoli passi verso di esso invece noi vorremmo fare quattro passi alla volta no? noi vogliamo la soluzione veloce noi vogliamo arrivare in cima goderci il panorama senza avere una goccia di sudore addosso no? quanto è vera questa cosa siamo come quelli che vogliono salire in cima alle scale facendo tre gradini alla volta no? a meno che tu non sia allenato ti spompi dopo cinque secondi te lo garantisco no? e quello che invece raggiunge veramente la cima è colui che è consapevole che può raggiungere la meta facendo una cosa apparentemente molto più banale e più ordinaria cioè un gradino alla volta e che è il gradino alla volta che ti permette di arrivare in cima è l'azione ordinaria che porta allo straordinario quindi questo è il cuore della puntata è qui che risiede il significato dell'ordinario versus straordinario non sono in antitesi come ce lo insegnano tutti quanti come ce lo insegna la società ma sono in profonda connessione tra di loro in profonda sequenza l'azione ordinaria porta allo straordinario e lo straordinario richiede tempo tempo no? questo è passato di moda il concetto del tempo noi vogliamo essere subito star noi vogliamo subito non avere più problemi con i nostri figli noi non vogliamo più avere problemi con il nostro capo di lavoro cioè vediamo il problema e vogliamo subito che si risolva come per magia no? ed è questa la prima cosa che appare evidente a moltissime persone che iniziano una psicoterapia per esempio non sapete quante persone incontro ogni giorno nel mio lavoro come psicoterapeuta che hanno sostanzialmente questo processo in testa cioè il pensare che il semplice fatto di aver visto trovato un problema e iniziato la psicoterapia abbia il potere straordinario di risolvergli tutti i problemi della vita ecco senza voler veramente investirsi investire le proprie energie anche passando per dei fallimenti no? la fatica del quotidiano ecco la psicoterapia in questo senso è uno strumento di lezione assolutamente di lezione ecco perché io ho sposato questa professione perché credo che ognuno di noi è una persona straordinaria se impara a vivere bene in maniera piena il proprio ordinario e quindi la psicoterapia è l'esempio più calzante del concetto e della bellezza dell'ordinario perché la terapia prosegue procede non prosegue procede alla tua velocità è una velocità adeguata ti insegna a viaggiare a una velocità adeguata ti permette di accedere piano piano a tutte quelle micro abilità a tutte quelle nuove conoscenze consapevolezze su di te e sugli altri che ti servono per accedere a quel risultato straordinario cioè tu non puoi che il tuo problema che magari dura da anni che magari ha radici profondissime nella tua infanzia tu possa risolverle in cinque sedute ma come pensi cioè come pensi che questo sia possibile no? come chi ti ha messo in testa che che tu possa raggiungere questi risultati straordinari in questo modo cioè chi ti ha messo in testa questo concetto perverso della straordinarietà no? tutti noi per natura abbiamo diritto a una vita straordinaria no? e lo possiamo raggiungere se ci prendiamo la responsabilità di ogni azione ordinaria di tutti i giorni invece no? questa mentalità degli influencer la mentalità Amazon del tutto è subito e veloce è veloce per cortesia eh Amazon sbrigati no? sta minando profondamente la santa pazienza la santa pazienza dell'attesa del risultato la nostra velocità la nostra società non ci insegna più ad essere pazienti no? siamo o tutto subito cioè tu appena uscire dall'università devi già saper fare il tuo lavoro e se no non ti posso prendere mi dispiace e tu a vent'anni devi già avere dieci anni di esperienza e altrimenti non se ne fa nulla ecco la nostra società sta piano piano friggendo il nostro cervello nel microonde dell'impazienza ecco non sappiamo più vivere l'ordinario ragazzi ma veniamo attratti come degli insetti da quella luce bella e sua dente della lampada anti-insetti che appena ti avvicini un po' boom ti schiaccia ti schiaccia ti fa passare un voltaggio di corrente intorno al corpo e muori ecco e noi preferiamo farci abbindolare da questa da questa luce bella e sua dente che i risultati straordinari li puoi ottenere così con un battito di ciglia no? che schiocchi le dita e i risultati arrivano no? preferiamo farci tante volte risucchiare dai grandi titoli anche no andando sul web via l'ansia in cinque mosse ecco la formula segreta per la storia d'amore di successo e poi leggiamo questa roba e non cambia niente non cambia niente nella nostra vita non cambia nulla nelle nostre relazioni perché? perché nessuno ci dice che questa è tutta aria fritta perché nessuno ti dice che se vuoi raggiungere veramente i risultati nella tua vita devi passare per la croce dell'ordinario cioè imparare ad avere pazienza con te stesso no? a comprendere per esempio il linguaggio della tua ansia capire cosa vuole veramente comunicarti imparare a gestirla ogni giorno no? e non in cinque mosse del coach motivazionale di turno che che magari non c'ha manco un briciolo di formazione psicologica su questo no? stessa cosa vale per le nostre relazioni con noi stessi con gli altri fino a che non inizi a sporcarti le mani ogni giorno con non so la definizione dei tuoi confini nel comunicare all'altro i tuoi no nel frattempo è anche passato il motorino chi lo sa magari di un di un di un corriere di amazon proprio sotto casa mia spero che non ti abbia dato troppo fastidio comunque dicevo no sporcati le mani finché non ti sporchi le mani dicendo dei no agli altri ma porca miseria ma come pensi di riuscire a raggiungere questi obiettivi questi traguardi straordinari no non raggiungerai mai mai nessun nessun risultato straordinario mi dispiace te lo devo dire il mio compito con questo podcast è liberare la tua mente da alcuni schemi che magari passivamente stai subendo da anni e questo del straordinario verso straordinario è uno dei più grandi perché noi preferiamo le scorciatuie preferiamo credere a chi ci promette l'Everest e non ha mai neanche scalato la collina dietro casa sua è questo il problema questo è il problema è che non ti vuoi sporcare veramente le mani e non è l'uomo sulla luna la vera cosa straordinaria lo vuoi capire oppure no quella è una logica conseguenza è un risultato straordinario ma è conseguente a invece a chi ha avuto il genio di costruire lo shuttle a chi si è messo lì sporcandosi le mani a progettare a costruire lo strumento il mezzo che avrebbe permesso all'uomo di poggiare il proprio piede per la prima volta sulla superficie lunare è questo che va applaudito e non ecco il risultato e basta le piccole scelte innocue ma indispensabili la goccia che scava la roccia no e la ripetizione di questo che porta grandi risultati pensa a Bebe Vio come ti dicevo no anzi a Beatrice Vio oggi la conosciamo tutti no è diciamo uno dei simboli del nostro fiorello occhiello dell'atletica parolimpica italiana no è uno dei volti più noti e influenti in assoluto ma lo sapevi che questa ragazzina prima di vincere i mondiali praticava la scherma dall'età di 5 anni 5 anni ragazzi ha vinto non so se a 15 o a 17 mi sembra comunque dopo 10 anni di azione quotidiana di tutti i giorni in cui ha sfidato i propri limiti è questo la capacità straordinaria non è la medaglia d'oro con quella non ci fa niente è l'ordinario che gli ha fatto vincere le partite più difficili di tutte e che gli ha permesso di poi vincere in maniera naturale conseguenziale quello che a noi invece arriva così sotto le luci dei riflettori dei mass media cioè la medaglia ma il combattere le voci interiori che gli dicevano ogni giorno non ce la farai sei un'handicappata non ce la puoi fare ma cosa ti sei messa in testa di fare ecco l'hai vista la felicità immensa sul volto di Beatrice quando scoppia in pianto quando è riuscita a vincere le olimpiadi ecco quel pianto sa perfettamente di qualcosa di straordinario perché Beatrice sa perfettamente che la cosa straordinaria non era vincere la medaglia la medaglia d'oro ma era la strada quel pianto parla di una strada di un processo di un percorso che ogni giorno le ha permesso di arrivare a quel risultato ecco non ci voglio girare ancora troppo intorno ma se hai il tuo Everest bene puntalo puntalo perché l'Everest ti aspetta è tuo fa parte della creazione è stato creato perché l'uomo possa raggiungerlo va bene ma prendi in coscienza tua prendi consapevolezza di questo che per raggiungere il cambiamento che vuoi per te devi sporcarti le mani ogni giorno ecco sono le azioni ordinarie che scegliamo di mettere in campo ogni giorno a portarci allo straordinario quindi ragazzi per me non so se si è capito l'ordinario batte lo straordinario visto che abbiamo fatto questo titolo come se fossero in rivalità tra di loro ma ecco oltre questo spero che si sia capito che è il processo quello che conta non è il risultato quindi iniziamo a ragionare sulla bellezza dell'ordinario di tutti i giorni della nostra vita iniziamo a orientare a ordinare le nostre azioni il nostro pensiero in una nuova direzione in fondo sta tutto qui il discorso concentrati sul come e non sul cosa sul processo e non sul risultato e sentiremo parlare di te diventerai ciò che hai sempre voluto essere eccoci ragazzi anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast e io spero che questo tema dell'ordinario versus straordinario sia stato un qualcosa uno spunto di riflessione di ispirazione in più per smettere di guardare solo al risultato solo alla meta che vuoi raggiungere al cambiamento che vorresti portare nella tua vita e riportare il tuo sguardo in maniera orizzontale invece di andare a sbattere contro gli ostacoli contro i muri e i pali guardare ai passi che devi mettere uno in fila all'altra se vuoi raggiungere effettivamente la meta che ti sei prefissato e quindi ragazzi io voglio ringraziare in onore a questa puntata a chi secondo me sta facendo qualcosa di veramente straordinario sto parlando dei finanziatori del progetto liberamente cioè di tutte quelle persone come me come te che amano questo podcast che ne traggono valore ogni giorno dal suo ascolto e che hanno deciso a un certo punto in maniera spontanea di sostenerlo concretamente attraverso un'azione concreta attraverso il loro finanziamento e quindi vado subito a ringraziare Alberto Bagnoli Alessandro Masetti Alessandro Esposto Alessia Cecconi Antonio Andriolo Davide Rizzo Carmelo Conti Deborah Fontana Elena Giurlando Fabio Giuliani Fabrizio Filippo Labruna Francesco Maggioni Giacomo Siska Antonella Guerra Laura Mara Boschello Mauro Catini Sangio Waco Raffaele Robert Sara Veltri Sabba Veronica Cardullo e da oggi anche Andrea Molinari che si è aggiunto anche lui alla community dei finanziatori attraverso il suo finanziamento da un dollaro se anche tu senti in qualche modo di voler far parte ancora in maniera più speciale di questo progetto non devi far altro che andare nelle note dell'episodio cliccare sul link diventa finanziatore e accedere alla pagina Patreon dove troverai i diversi livelli di finanziamento dove potrai scegliere il tuo finanziamento più adatto a te ma soprattutto capire quali benefit quali premi quali regali ti aspettano in quanto finanziatore di questo podcast io ragazzi vi saluto e vi do appuntamento come sempre alla prossima puntata sempre qui su Liberamente Liberamente il podcast di psicologia con storie idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più a cura di Matteo Neroni è Grazie a tutti.